Avere la capacità di ben coordinare attività e persone è fondamentale in campo imprenditoriale se si ha l'ambizione di raggiungere importanti traguardi. Ce lo hanno spiegato alla concessionaria Umbra Central Car che negli anni è riuscita e continua a collezionare riconoscimenti nazionali internazionali di prestigiose case automobilistiche e soprattutto a vantare un elevato livello di soddisfazione tra i propri clienti. Un gradimento frutto anche di continui investimenti che hanno trasformato Central Car in un vero e proprio polo dell'automobile in cui non solo si vendono veicoli ma si garantisce un'assistenza tecnica a 360 gradi comprensiva anche di un innovativo servizio di carrozzeria. Lavoriamo in continua sinergia con il reparto vendita, il reparto accettazione con quattro consulenti del servizio, clienti per rispondere a tutte le esigenze e dare le migliori soluzioni possibili. Un reparto, un'area tecnica dove nove colleghi costantemente formati utilizzano delle attrezzature sempre più specifiche dei device di ultima generazione. Un magazzino ricambi con uno stock importante di materiali ricambi originali e qualora non fossero disponibili che si impegna entro le 24 ore a reperirli. Un'area lavaggio dove vengono utilizzati prodotti anche lì di ultima generazione prodotti non nocivi all'ambiente e non nocivi alle persone proprio per la tutela del sia del personale che lo utilizza che delle macchine. La carrozzeria che ha supporto del service ci aiuta nella parte estetica. Abbiamo un servizio di CRM che ogni giorno ricontattano i clienti che ci hanno fatto visita. Raccogliere i loro pareri per noi è di vitale importanza. Ci permette di migliorare ogni volta. Un'azienda deve avere un lavoro di squadra. Senza il lavoro di squadra, senza un team coeso e professionalizzato i risultati non se ne ottengono. Abbiamo negli ultimi anni investito sui giovani i quali sono cresciuti e oggi possiamo dire con soddisfazione e in tutta coscienza che abbiamo davvero un bel team. Oltre a puntare sul lavoro di squadra però Central Car ha investito molto anche sulla sostenibilità ambientale realizzando una copertura delle proprie strutture con impianti fotovoltaici con il duplice obiettivo di ridurre le emissioni inquinanti e allo stesso tempo i costi energetici. In questo centro automotive produciamo circa 400 kilowatt l'ora quando c'è il sole naturalmente e abbiamo i sistemi illuminanti e tutte le attrezzature ad alto coefficiente energetico il che vuol dire che produciamo molto e consumiamo poco. Cioè per essere chiari non inquiniamo e non spendiamo. Al prossimo episodio